Però se mi metti contro proprio il mio counter per eccellenza o uno dei miei counter per eccellenza io l'arco X te lo lascio perdere che questo deck che c'ho in mano è proprio uno di quelli kamikaze a 100% Bene va bene va bene va bene va bene tutto va bene così e già prendiamo un po' di vantaggio e già ci prendiamo un po' di vantaggio che poi ne potrei mettere un'altra ma probabilmente andrai a esagerare però In realtà mi va bene tutto lui ha la sfera infuocata lui ha diverse cose molto interessanti che ne so ci provo proviamoci dai Per me persissimo ho detto a me questo tipo di deck mi piace un botto giocarlo e mi ricorda i vecchi tempi quindi mi piace un botto giocarlo sto tipo di deck tantissimo Ma quello di prima ho detto regà quello di prima non è che non ero capace io è che veramente non se può non se può cioè non se può è una cosa incredibile Ok